Ecco il nostro prune cake salato agli asparagi, tolto anche dalla teglia, lo potete presentare così in tavola, in questo vassoio, e poi ovviamente tagliarlo. Adesso tagliamo una fetta così vediamo anche in mezzo come è venuto. Vedete? Morbidissimo, alto, e quindi la dimostrazione è che anche senza burro il prune cake basta che ci sono tutti gli altri ingredienti, soprattutto lo yogurt, la farina giusta e la morbidezza dovuta anche ai formaggi, è venuto morbido, alto e soffice. Buona degustazione a tutti, col nostro prune cake salato che va bene come cena, come antipasto e anche come colazione o anche tipo una merenda al pomeriggio, una merenda salata da far assaggiare ai vostri bimbi. Buona degustazione!